2022-2023 Con il classico saluto pallavolistico sottorete Lo stesso Bartosz Zizek va al servizio, batte lavorato su Porro VTR fa andare veloce il suo brazo Alto spin, Petras riceve perfettamente, Pipe per lo stesso schiacciatore Una bella super di Garnica per Pierotti che tira lungo Difesa di De Angelis, Petras per Gutierrez Can Saltone, era partito un po' distante Arrampicarsi Scopelliti su Russo Opzione al centro di Catalan che blocca Sperazio Catalan in doppia, scavalcano I cartelloni pubblicitari Incredibile Ovviamente ne approfitta Garnica Bella combinazione di gioco, sovrapposto veloce Chi di pallonetto ferisce, di pallonetto Azione un po' confusa Ci prova con una pipe di rigiocata Chiude il discorso Petras con un bel muro Staccata, difesa di Petras Primo tempo di Catalan E palla che esce Primo set for Trata Non abbiamo più parole Lasciamo parlare Comunque insieme momenti difficili Perché L'ossatura è quella dello scorso anno Con innesti Sto dando veramente dimostrazione Iervolino è costretto a buttare la palla di là in palleggio Bella due In contrattacco Ma anche sicurezza nei propri mezzi No, bellissimo E a tanto apposito Apertura di Otto Altra cannonata di Petras Iervolino si difende Gutierrez difende anche lui Bella apertura Bella apertura di Mattia Deve correre tanto E in più I suoi attaccanti Gli stanno dando gradissime soluzioni Ma in situazioni come queste Ma in questo caso Io penso che per quel che riguarda la nostra formazione Vedo talmente tanta determinazione che Figuracce e matematiche Boninfante Sceglie Gutierrez E Gutierrez La mette giù Palla che ritorna nel campo T-Net Scopelliti Is on fire Mattia Boninfante Bella battuta di Boninfante Probabilmente non passa L'attacco di Sperandio In ogni caso Rotazioni speculari Gran servizio Gutierrez La tesoro Questa volta tenuta la battuta De Angelis si posiziona molto bene in difesa Muro a tre Contro Gutierrez Il cubano Vediamo se sceglie la lungolinea su Porro Palla corta su Catalan Rituta bene Apertura E Gutierrez La chiude Convincente prova della T-Net Prata Prata Grazie a tutti